ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio dedicato agli effetti oggi ci spostiamo sulla categoria stilizzazione per vedere quello chiamato si si block load lo scopo di questo effetto è quello di simulare il caricamento di un'immagine in più passaggi dove la definizione passa attraverso delle transizioni da risoluzioni sgranate a pixel minuscoli in pratica è utile per dare l'idea di un processo di caricamento di un elemento ma vediamo di cosa si tratta ci portiamo su questa composizione dove ho il mio logo e uno sfondo blu lo selezioniamo andiamo su effetto nella categoria stilizzazione e clicchiamo si si block load immediatamente il nostro logo sarà scomparso e nella finestra del controllo effetti avremo quattro proprietà la prima completion è proprio come quelle viste nelle transizioni perché con un intervallo da 0 a 100 andrà a rivelare il nostro logo ma attenzione se iniziamo ad aumentare il parametro vedremo come una linea invisibile simile a una comparsa lineare si sposta dall'alto verso il basso e inizia a rivelare il logo ma come vedete è tutto pixelato e poco definito se continuiamo ad aumentare il parametro vedremo che si andrà a sovrapporre un'altra linea in movimento che pulisce un po di più il logo rendendolo un poco più definito anche se ancora pixelato aumentiamo ancora un po ed ecco un'altra transizione che andrà a pulirlo nuovamente anche se ancora non perfetto e se aumentiamo ancora avremo la quarta transizione che questa volta rivelerà il logo perfettamente definito dove al 100 per cento non avremo più nessuna imperfezione quello che è successo è la simulazione di un caricamento come avveniva nei primi anni di internet ma in questo modo lo abbiamo visto lentamente per cui a tempo zero accendiamo l'orologio del completion poi vado a tre secondi e lo porto al cento per cento mandiamo in riproduzione e vedremo quattro passaggi dove il logo da un ammasso di pixel a blocchi torna perfettamente definito la seconda proprietà scans specifica le scansioni che l'effetto applica prima di riportare il logo al suo aspetto originale ovvero quelle famose linee trasparenti che transitavano la definizione del logo in quattro passaggi infatti quattro è il numero delle scansioni predefinite che possiamo modificare per esempio impostandone otto e se mandiamo in riproduzione vedremo otto transizioni prima che il logo torni perfettamente definito riportiamolo pure a quattro perché vi sarete sicuramente accorti che i quattro passaggi non sono divisi equamente nel tempo con valore di completamento suddivisi al 25 per cento l'uno infatti le prime transizioni sono molto più veloci delle ultime e qui l'unico modo per controllare questo aspetto è quello di interagire sull'editor grafico quindi selezioniamo i fotogrammi chiave e clicchiamo sull'icona per aprire l'interfaccia dedicata con il grafico di velocità prendo il fotogramma di partenza e lo porto a velocità 0 e lo posso fare o con un doppio clic direttamente sul fotogramma e imputare il valore nella finestra di dialogo oppure trascinarlo direttamente con il mouse dopodiché prendo la maniglia e la tiro per creare una velocità in progressione abbasso anche il fotogramma finale e se mandiamo in riproduzione avremo dato una velocità più uniforme alla nostra animazione adesso possiamo impostare anche otto scansioni e vederle molto più chiaramente bene successivamente abbiamo una casella chiamata start clear head che per impostazione predefinita è selezionata ed è anche la causa del fatto che appena inserito l'effetto il logo è scomparso e abbiamo lo schermo vuoto solo con lo sfondo se la disattiviamo vedremo il risultato della prima scansione quindi l'animazione inizia già con il logo trasformato in un enorme pixel più saranno le scansioni che possono arrivare a un massimo di 16 e più avremo logo destrutturato minore saranno le scansioni e minore sarà l'alterazione che subisce lasciamo con un valore di 4 e infine troviamo la casella bilinear che è un tipo di filtraggio utilizzato in computer grafica per migliorare l'aspetto delle texture se attiviamo la casella l'effetto utilizzerà una combinazione di pixel vicini per calcolare il colore di ogni pixel dell'immagine e può causare anche un leggero effetto sfocatura in questo caso il risultato non è proprio interessante per cui ricapitolando possiamo generare la simulazione di un caricamento attraverso delle scansioni per rivelare un qualsiasi oggetto ma questo effetto come d'altronde anche altri che abbiamo incontrato può esprimere il suo potenziale in combinazione anche ad altri effetti per cui vediamo un modo creativo e divertente per creare un preset che potremo riutilizzare salvandolo nella nostra libreria per trasformare così le nostre scene in una grafica stile nintendo a 8 bit degli anni 90 quindi ci portiamo su questa composizione dove ho il video di un game futuristico bello definito e colorato aggiungiamo il livello di regolazione che rinominiamo stile 8 bit e iniziamo la costruzione dell'effetto inserendo quello chiamato posterizza dove abbiamo anche una lezione dedicata che ci aiuterà a limitare il numero di colori ottenendo dei passaggi a strati per ora impostiamo un valore tra i 10 e 15 che comunque sarà a vostro piacimento adesso aggiungiamo il cc block load disattiviamo la casella start cleared e impostiamo le scansioni dove un valore di 3 potrebbe andare molto bene inseriamo anche a piacimento un effetto tinta se vogliamo trasformare lo schermo come i primi game boy che molti di voi oggi non avranno neanche mai visto che aveva questo colore verde quindi un display con questo verdastro ma eventualmente lo decidiamo anche in un secondo momento e per ora lo spegniamo perché andiamo a inserire l'effetto forse più importante per questo stile ovvero l'effetto griglia dai suoi metodi di fusione lo portiamo su normale e gli assegniamo un colore grigio scuro riduciamo la dimensione delle linee portandola al minimo che non sarà il valore di 1 perché se facciamo uno zoom vedrete che le rende semi trasparenti per cui lasciamo un valore di 2 in modo da averle ben definite adesso dobbiamo creare una trama che si mappi perfettamente alla dimensione di ogni pixel generato e con tre scansioni la dimensione di ogni quadratino corrisponde a 8 per 8 pixel quindi dall'effetto ancoraggio della griglia porto gli assi x e y a valore 0 mentre sul punto di angolo imposto 8 pixel sull'asse x e 8 su quello y e avremo avvolto ogni pixel della scena con la nostra griglia dando un look davvero simile alle vecchie console portatili ma non è tutto se infatti mandiamo in riproduzione vedremo che esteticamente è credibile ma il movimento è ancora troppo fluido per essere un game anni 80 anni 90 ecco che possiamo renderlo un po più scattoso inserendo l'effetto posterizzazione tempo dove anche per questo abbiamo una lezione dedicata e che ci servirà per impostare un numero di frame rate diverso il risultato è un numero di fotogrammi minore che possiamo impostare attorno ai 10 per avere una riproduzione più scattosa e meno fluida riaccendiamo magari anche il tinta e mandiamo in riproduzione per vedere lo schermo davvero simile ai vecchi game boy bene ora un aspetto da considerare è che lo sfarfallio dei pixel dovuti all'effetto può non rendere definiti alcuni oggetti della scena se infatti fate caso agli indicatori digitali sui due lati sono talmente poco definiti che è quasi difficile leggere i numeri al suo interno confronto magari l'astronave lo scenario che sono molto più accettabili un trucchetto per migliorare questo problema è quello di inserire un effetto di controllo sfocatura direttamente sul video interessato quindi lo aggiungiamo e gli diamo un valore attorno ai 6 e se ora attiviamo e disattiviamo l'effetto potremo vedere la notevole differenza tra il prima e il dopo magari spegniamo il tinta per vederlo a colori e mandiamo in riproduzione bene come ultimo aspetto per usare questo stile vediamo cosa succede invece sui video che contengono il canale alfa ovvero che hanno della trasparenza ma prima salviamo il nostro per set selezioniamo gli effetti che lo compongono andiamo su animazione salva predefinito di animazione dopodiché andiamo in c programmi adobe after effects support files e preset e se avete una cartellina con i vostri personali lo potete salvare lì se no in una di quelle che after vi mette a disposizione torniamo su after dalla palette degli effetti predefiniti aggiorniamo l'elenco e se ora lo cerchiamo lo troveremo in lista quindi ci portiamo su questa nuova composizione dove il video di un'esplosione che riporta le stesse dimensioni della composizione e se attivo la griglia di trasparenza possiamo vedere che è un video con il canale alfa ora prendo il mio preset e glielo applico e quello che vediamo è sì l'effetto pixel sull'esplosione ma però è presente anche sulla trasparenza per eliminarlo dobbiamo interagire con uno dei metodi di fusione dell'effetto griglia che si trova nella quarta categoria per cui scurisci e avremo questo risultato oppure schiarisci ancora differenza e per terminare esclusione ma ognuno di questi isolerà il canale alfa del colore della griglia applicando l'effetto in modi differente solo sulla superficie opaca magari lo lasciamo in schiarisci che mi piace di più perché sembra davvero l'esplosione di un videogame a questo punto possiamo inserirlo dove vogliamo e trovare la fusione più adatta della griglia per darvi un aspetto completamente personalizzato bene ragazzi anche per questa lezione è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao 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 ciao